segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te voi come ci arrivate da dove partite si allora come spiegato bene nel servizio è iniziato tutto con un'inchiesta diciamo in francese la surte de l'età dei servizi del belgio che lavorano come spiegato molto bene sai a bruxelles una piccola città ma c'è la sede sia della nato che del parlamento europeo dunque migliaia di persone che girano qui a bruxelles e da sempre i servizi segreti seguono i cinesi c'è stato già una cosa di uffici di un ufficio di malta con delle spie cinese via di seguito lavorano sempre la e direi quasi per caso hanno sentito che c'era un signore panzeri che sembrava essere molto interessante per loro e dunque hanno fatto una cosa che abbiamo scritto scorsa settimana sono entrato nella sua casa hanno visto che c'erano tanti soldi e poi sono usciti e poi hanno detto alla polizia ci sarà sicuramente qualcosa da fare dunque non conosco la parola in italiano e mi ha declassificato la storia che era classificata e protetta per permettere al giudice e alla polizia del belgo di prendere l'inchiesta e questo è stato in luglio e poi noi avevamo dei fonti quindi aspetta aspetta mi voglio immaginare la scena ci sono delle spie di quale nazionalità che entrano a casa di panzeri belghe che entrano a casa di panzeri chissà con cosa si saranno inventati per poter entrare capiscono che ci sono i soldi e a quel punto fanno desecretare quei documenti che erano documenti delle spie giusto esatto comunque parli giusto e da là il più grande problema per la polizia del belgio è l'immunità molto forte che hanno gli europarlamentari che è normale ovvio una democrazia ma se vuoi se vuoi fare una perquisizione o anche un'intercettazione su un europarlamentare lo devi chiedere quasi dunque ovvio è molto difficile per l'inchiesta dunque è perciò che hanno provato di toccare di arrivare a gente che è vicina all'europarlamentare con il signor giorgi il signor panzeri gli assistenti parlamentari sicuramente è per la cosa della dell'immunità parlamentare allora fermate un attimo rispetto al racconto poi ho molte altre curiosità ma ritorno da te perché poi invece l'aiuto dei miei ospiti allora intanto claudio noi passiamo dalle valigie con i soldi da quelle mazzette che abbiamo visto che la invece sembrava di stare in un altro tipo di film sul narcotraffico non lo so noi abbiamo visto queste mazzette e poi abbiamo sentito dal catar dire che se vietate l'accesso e virgolettato se vietate l'accesso ai nostri rappresentanti ci sarà un impatto negativo e questi signori sono tra i primi produttori di gas liquido che riforniscono all'europa credo la loro produzione per un 30 per cento arriva in europa quindi arriva anche a noi che è una minaccia poco velata direi o no sì intanto